sabato 30 e come tutti gli altri sabati che sono passati workout da poter performare tutto all'aperto partiamo come sempre dal warm up e sono 3 set di che cosa un minuto di jumping jack 30 secondi di skip e poi 30 secondi di riposo dopodiché andiamo a vedere il workout la versione completamente all'aperto poi non vi preoccupate al box vedremo come poter andare a farlo la pressione completamente all'aperto dicevamo un for time di che cosa dobbiamo fare prima tre round di 30 bar peace finiti 30 bar peace 120 mountain climbers e questi sono per tre volte 30 bar peace 120 30 120 30 120 finiti per la terza volte 120 mountain climbers avete da fare un miglio di corsa che sarebbe un chilometro e 6 e per concludere come cash out riposo 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 ormai è sabato pomeriggio godetevi anche il weekend della domenica ciao ciao jumping jack quando i piedi si allargano le mani vanno a toccarsi sopra la testa e poi ritornano a toccare le cosce dopo un minuto di jumping jack abbiamo 30 secondi di skip alterniamo mano gamba opposta con le ginocchia che salgono verso il petto dopodiché abbiamo i movimenti del workout che è da fare tutto all'aperto sono prima 30 bar peace quindi andiamo con mani a terra lanciamo indietro i piedi ciclo di chiamaterra spingiamo con le braccia richiamiamo i piedi vicino alle mani saltiamo e battiamo le mani sopra la testa dopo i primi 30 bar peace abbiamo 120 mountain climbers posizione di plank alterniamo le ginocchia al petto ed è questo è un round dobbiamo ripeterlo per tre volte quindi avremo di nuovo 30 bar peace 120 mountain climbers 30 bar peace ancora per l'ultima volta per finire questi tre round 120 mountain climbers dopodiché un chilometro e sei di corsa via e come cash out un bel enjoy the rider la prima settimana al box è andata e e e e e e e e